E lui era là, disteso per terra, come l'hai visto anche tu. Mi credi? Sì, sì. E tuo fratello? Gero, è uscito con te, no? Oh, no. Non so dove si è andato. Perché? Ma perché sei salita da Prescott? Perché mi aspettava. Papà è morto da una settimana. Travolto da un auto. Tutti hanno detto che è stato un incidente, ma io non ci credo. So con certezza che Prescott cercava di ricattare papà. Eh? Sì. Ah. Ricatto. E perché? Cosa aveva fatto? Papà. Proprio niente. Era un uomo formidabile. Pulito, onesto. Anche se un po' l'antica, ma incapace di fare niente di male. No, semmai è Marta. Prescott aveva una sua strana foto. Voleva servirsene per compromettere papà. Set fame tesi belle. Sono io, Jane. Mi hai fatto paura. Armi. Non ti aspettavo così presto. No. Niente foto. Oh. Oh. E allora? Il nero. Ti prego, rispondi. Allora. Te. Allora. Nelonfo. L'acqua sul corpo di una donna. E' come la rugiada sui petali di una rosa. Lao Tse. E chi è? Un poeta cinese. Parlami di tu. L'SD. Lao Tse. No. Nadine. Do No. 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 Grazie a tutti. Che peccato. Hanno rovinato tutto. E adesso che facciamo? Mi ve lo sapevo. Prefermi. Torniamo a casa mia. Non si può. Perché no? Sarà già sorvegliata. Vieni. 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 toccato Jerome. Vieni. Vieni. Che beccato. Vieni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.